Siamo andati a Londra, senza un senso, così qualcosa sono. Pronto a riprendere e a rifare tutte le fotografie del mondo. Il pavone è un animale molto ma molto irritabile, basta poco e si fa vedere come le ruote possono girare, però lui fa girare a te. Che piccolo, pavone. Però il bello dei pavoni è la loro coda, con questi colori sul verde, viola, blu. E' la signora. E' una vita da pavori questo. Ho appena trovato un motivo per vivere. Siamo uguali. Identici, come pesci, identici. Dato che c'ho fame, siamo alla ricerca, i locali non siamo perché ci sarebbe niente ma sono scomparsi. Sì. Che vita inglese. Finalmente di nuovo insieme. Spero. Poi ti ricordi che abbiamo un concerto? Poi a luglio, è vero, vengo per il concerto di Green Day finalmente. Sì. Posso tranquillamente dire che ora si cammina. Non ho capito nulla. Non ho capito nulla. Poi, questi eventi ulci. bisogna mangiare anche se siamo di piena corsa. Ci sono degli odori buoni. Non ho capito nulla. Perchè, 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 perchè! Perchè, perchè, perchè! È finito! E ora, a giro! Sto per il torno a casa, sono qui. è un posto bellissimo un posto dove ci passerei tutti i giorni io le giornate dove comprerai tranquillamente una casa perchè è lì una santa, ho un quartierino piccolo non sono presenti i can't stop thinking about you i don't care if you exist do i hear laughter from behind the spell of midnight